Grazie a tutti Cari fratelli e sorelle, buongiorno Nella buongiorno di oggi ascoltiamo queste parole della lettera agli ebrei Corriamo una perseveranza nella corsa che ci sta davanti Tenendo fisso lo guardo su Gesù Colui che dà origine alla fede e la porta a comprimenza E' un'espressione che dobbiamo sottolineare in modo particolare in questo anno della fede Anche noi durante tutto questo anno teniamo lo guardo su Gesù Perché la fede che è il nostro figlio alla relazione filiale con Dio Viene da Lui, viene da Gesù E Lui è l'unico mediatore di questa relazione Tra noi e il nostro Padre che è nel Cielo Gesù è il Figlio E noi siamo figli di Lui Ma la parola di Dio di questa domenica Contiene anche una parola di Gesù Che ci mette in crisi E che va a spiegare E che va a spiegare